L'intitolazione della sala stampa dell'emiciclo alla memoria del giornalista Guido Polidoro è stata accolta con grande piacere dalla famiglia. Questa mattina alla cerimonia di inaugurazione erano presenti la moglie di Polidoro, Luigia Salone, e i figli Marco e Sara. Noi siamo molto contenti. Viene ultima come iniziativa perché, come tutti sapete, c'è un premio Polidoro che dura ormai da tanto tempo, c'è l'intitolazione di una strada nel capoluogo di Regione. Tra l'altro ci è piaciuto anche questo perché è la strada dove ha sede l'ordine dei giornalisti abruzzesi per la cui Costituzione Guido ha lavorato molto. Quindi ci è piaciuta molto questa idea. È giunta un po' a sorpresa perché non ce l'aspettavamo più ormai. Però siamo felicissimi perché Guido ha la Costituzione della Regione, all'attività della Regione, all'attività dei suoi amministratori, ha dedicato tempo, spazio, volontà, professione, tutto. Nel suo intervento la signora Salone ha fatto più volte riferimento agli allievi di Guido Polidoro, ai giovani giornalisti che sono cresciuti professionalmente al suo fianco. Uno di questi è stato Angelo De Nicola, oggi capo servizio del quotidiano Il Messaggero. Il ricordo del maestro, il ricordo di chi ci ha insegnato la professione, ci ha insegnato a navigare in un mondo difficile e ci dice che oggi la figura di Guido sarebbe stata decisiva per orientarci in un mondo sempre più complicato, anche e soprattutto nella professione del giornalismo e del giornalismo nei confronti della politica. Guido rappresentava proprio questo, l'equilibrio tra i due mondi, il trade union tra i due mondi e da lui abbiamo imparato sostanzialmente tutto. Ci manca tanto, sarebbe stato decisivo oggi averlo qui al fianco, qui al nostro fianco, soprattutto come guida, come faro morale. Non c'è, dobbiamo cercare di andare avanti. L'allievo, come mi hai detto in apertura, è francamente un titolo d'onore, è una cosa molto bella.